E' per come mi guardavi, per i tuoi silenzi stai, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. La mia ultima fatica si chiama Filippo Neviani, che è l'album che contiene Congenzione Astrale. Congenzione Astrale è il primo singolo di questo disco e sono molto felice di averlo presentato e che tutte le radio l'abbiano in programmazione. Sono molto felice perché è questo album, che si titola Come me, Filippo Neviani, è il mio undicesimo ed è quello che è passato attraverso diversi stati d'animo, dalla nascita di mia figlia alla morte di mio papà e quindi ci sono diversi lati di me stesso. E' un disco molto più rock dei precedenti, guarda, non vedo l'ora tra l'altro di poterlo presentare anche dal vivo e sono felice che Congenzione Astrale venga ascoltata da molti. Magari a Bergamo? Magari a Bergamo. Guarda, stanno pianificando in questi giorni il tour e quindi speriamo proprio anche di venire qui. E' un'inguaribile mania saperti solo mia E' per come mi guardavi per i tuoi silenzi sei Per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare Per la voglia che hai di vivere e di vivere e di vivere e di vivere.